buongiorno benvenuto all'esame di cieli 3 livello b2 buongiorno anche a lei allora in questo esame orale ci saranno tre parti e lei avrà 15 minuti per preparare la sua risposta si scelga per favore una di questi tre fogli di domande scelgo questo bene adesso per favore ritorni al suo posto i suoi 15 minuti iniziano ora allora lei è pronto? no beh troppo tardi per tirarsi indietro adesso prima che iniziamo l'esame vorrei che lei mi raccontasse qualcosa su di lei oh lei non sarà valutato per questo ma se lei non è in grado di farlo sarà bocciato subito ok grazie per avermi messo sotto la pressione wow wow impressionante allora non le chiedo niente di più oh passiamo alla seconda parte allora descriva ciò che lei vede in questa foto secondo lei qual è il ruolo degli uomini oggi e come è cambiato nel corso del tempo è come si sente l'uomo oggi essendo quasi costretto ad aiutare alle faccende domestiche vero bello uomo che lava i piatti non usa neanche lavastoni gli è avrai anche i piatti? ce ne sono pochi ecco perché lui lo sta facendo così R è passato non comune raro venere i maschi in questo ruolo vero no? la parità di cnr per fortuna c'è più adesso guadagnare i suoi avrai privilegi non è più una cosa solo per i maschi il lavoro in casa non so più di donne la propria carriera possono seguire se è possibile ci può essere le persone ruole nella vita di copia non importa cosa dice la gente è la nostra vita rispetto a fare le faccende domestiche a mio parere gli uomini devono aiutare loro moglie in casa se non portano così tanti soldi ogni mese a loro moglie se non svolgi il tuo ruolo perché lei lo deve far ci vogliono due per fare una bella relazione lui è l'orato per portarne a casa mentre lei non è l'orata per tenere tanta la famiglia tuttavia sono quanto difficili una bella relazione come una buona cooperazione delle due parti funziona fiorisce solo solo quando ognuno fa sua parte il lavoro si divide chi lavora trova la frutta quello che volevo dire è che insomma se il marito non porta a casa la moglie tantissimi soldi è consueto di aiutarle dopo il lavoro al contrario una donna di servizio tra meglio davvero affascinante allora adesso passiamo alla terza parte non lasciare a domani quello che puoi fare oggi esprima la sua opinione e lei procrastina spesso cosa fa per evitarlo sì? non rimanere a domani quello che puoi fare oggi lasciarlo a domani così avrai due giorni liberi stavo solo scherzando personalmente sono molto d'accordo con questo detto perché ci sono tantissime cose che voglio fare nella mia vita ma il tempo è limitato se le rimando a domani significa che avrò perso le mie 24 ore inutilemente peraltro io so che il percorso per successo consiste in molti piccoli passaggi e se voglio raggiungerli prima di tutti devo trovare un modo per risolvere questi problemi per possibile di certo che esiste dentro di tutti noi la procrastinazione ogni giorno scegliamo sempre piacere invece nel dovere prima di amore delle nostre cose avevo paura ma non aiuta niente ma comunque facciamo sempre ma evitare l'altra stessa realtà e se io per caso dove si trovo mi mi sta trappolando lo so già uscire senza difficoltà ecco non procrastino grazie mille per la sua attenzione incredibile allora credo che sappiamo già il risultato ci rimane ancora l'ultima parte ma lascia stare saltiamola ecco il tuo risultato 60 e l'ode ciao mi come uè bevo da vignam vivo qua vicino sono andato a sta città per tre anni ho studiato questa lingua romanzà la sono perché questa lingua è bella da sentire da parlare non lo è perché voglio ottenere certificato B2 ben o meno uomo che lava i piatti non usa nemmo che lava sto migliere avrai anche i piatti ce ne sono pochi ecco perché lui lo sta facendo così era in passato non comune raro venere i maschi in questo ruolo vero o no la parita di cnr per fortuna c'è più adesso guadagnare i suoi avere privilegi non è più una cosa solo per i maschi il lavoro in casa non so più di donne la propria carriera possono seguire se è possibile ci può essere le mie sue ruole nella vita di copia non importa cosa dice la gente è la nostra vita rispetto a fare le faccende domestiche a mio parere gli uomini devono aiutare loro mogli in casa se non portano così tanti soldi ogni mese la loro moglie se lo svolgi il tuo ruolo perché lei lo deve far ci vogliono due per fare una bella relazione lui e l'ora dove portare a casa soli mentre lei non è lodata per tenere tanta la famiglia tuttavia sono quanto difficili una bella relazione come una buona cooperazione nelle due parti funziona fiorisce solo quando ognuno fa sua parte il lavoro si divide chi lavora trova la frutta quello che volevo dire è che insomma se io marito non può attaccare la moglie tantissimi soldi è consueto di aiutarle dopo io lavoro al contrario una domani se mi senti meglio non rimanere anomani quello che puoi fare oggi lascialo hanno porto umani così avrai due giorni liberi stavo solo scherzano personalmente sono molto d'accordo con questo detto perché ci sono tantissime cose che voglio fare nella mia vita ma il tempo è limitato se le rimando a domani significa che avrò perso le mie 24 ore inutilemente peraltro io so che il percorso per successo consiste in molti piccoli passaggi e se volevo raggiungerli prima di tutti devo trovare un modo per risolvere questi problemi è per possibile è certo che esiste dentro di tutti noi la propostinazione ogni giorno scegliamo sempre piacere invece nel dovere prima di amore delle nostre cose avevo ora ma non aiuta niente ma comunque facciamo sempre per evitare la triste realtà e se io per caso dove si trovo mi e sta a trappolà lo so già uscire senza difficoltà ecco non procrastino grazie mille per la sua attenzione grazie a tutti grazie a tutti